Alessandra Martinez, ecco che fine ha fatto la star di Fantaghiro. Alessandra Martinez è stata per lungo tempo, un'attrice molto nota e famosa. Ritenuta tra le più brave del suo tempo, la Martinez si è fatta amare tanto dal pubblico, non soltanto per i suoi vari ruoli, ma soprattutto per essere stata la star di Fantaghiro. A quell'epoca, tale ruolo le fece ottenere un successo inimmaginabile, che le ha poi permesso di avere tanti altri ruoli. Inizialmente però il lavoro di Alessandra era ben diverso. L'attrice infatti era originariamente una ballerina. Nata nel 1963, all'età di 15 anni aveva fatto un grande debutto in questo campo, esibendosi persino all'Opera di Zurigo, e poi successivamente anche a New York. La strada per il successo sembrava essere ormai scontata, in seguito però Alessandra Martinez è stata scelta, per interpretare la Carmen a teatro. L'attrice ha accettato la proposta e da lì è iniziata la sua carriera, nel mondo della recitazione, ed è stata invece messa da parte quella da ballerina. La Martinez è stata presente in tante altre opere teatrali, fino al suo debutto nel mondo della televisione. Ovviamente da quel momento ha potuto avere un successo ancora maggiore, che le ha permesso di diventare molto amata dal pubblico. Alessandra Martinez, dunque, amatissima dal pubblico per molto tempo, da un bel po' non si mostra sotto le telecamere. Il successo di un tempo sembra essere svanito, e non si sta più parlando di lei. In tanti si sono chiesti se le sia successo qualcosa, o se abbia deciso spontaneamente di ritirarsi a vita privata. Secondo quanto si sa di lei, la sua ultima apparizione come attrice, ed il suo ultimo ruolo risale al 2017. In quel periodo la Martinez ha impersonato una delle protagoniste, del Bello delle donne, la fiction Mediaset. Successivamente non è più comparsa in televisione in Italia, mentre ha continuato a portare avanti il suo ruolo di attrice in Francia. Infatti gli ha avuto diversi ruoli ed ha potuto avere la possibilità di farsi conoscere un po' anche all'estero. In seguito però ha smesso anche di lavorare in Francia. Ebbene, secondo quanto è trapelato, Alessandra Martinez ha semplicemente deciso di prendersi una pausa, dal mondo dello spettacolo e dalla recitazione. Non si può escludere che in futuro l'attrice possa decidere di tornare, sul piccolo schermo anche in Italia, o magari in Francia. Voi che cosa ne pensate? Vi ricordate di Alessandra Martinez ed avevate notato, la sua assenza dalla televisione negli ultimi tempi? A voi i commenti. Metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti. Sous-titrage Société Radio-Canada Grazie a tutti.